Ciao Ebo, allora l'idea di andare a Sanremo assieme è stata un'idea che io e Federico abbiamo avuto incredibilmente insieme. Anzi, nessuno dei due aveva il coraggio di dire all'altro che aveva avuto questa idea ed è stato molto divertente. Confermo. Io. Io. Entrambi abbiamo paura. Gestire la paura del padre. Cioè, secondo me uno deve, scusate, uso un termine un po' filosofico, deve abitarsi, cioè deve studiare, deve conoscersi, deve visualizzare il palco. Anche questa cosa di fare le prove senza pubblico già come sarebbe, ad esempio, aiuta molto. Allora, la canzone di Sanremo è una canzone chiaramente d'amore, ma d'amore un pochino più trasversale, perché sicuramente c'è stata un'evoluzione di tradizione, di pezzi d'amore fedeziana, micheliniana, rispetto a Magnifico e Cigno Nero. È una canzone che sicuramente, per quanto mi riguarda, è particolarmente emozionante anche sapendo che cosa abbiamo vissuto quest'anno, perché è una canzone in cui c'è anche tanta voglia di sognare, di essere qui in questo momento e condividere il palco assieme. Ci sono anche delle frasi proprio del testo che per me raccontano proprio questo, cioè vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna e poi so che in fondo ci ha stupiti finire qui da soli in questo posto, ma se poi non mi trovi chiamami per nome. E in quel momento io guardo sempre Federico e devo trattenere la lacrimuccia. No vai Fede. Era una canzone, in realtà volevamo provare a fare una canzone, al netto che a me è capitato spesso anche magari di trovarmi in studio e dire proviamo a vedere cosa esce con altri artisti e magari non è detto che porta fuori qualcosa che poi si pubblica, no? Quindi l'idea era quella di provare a vedere quello che succedeva. Una volta confezione, cioè finita la canzone, siamo andati in studio, ci siamo detti, ma perché no? Quindi non è una canzone che è nata specifica per Sanremo, no? Certo. No, per ora no, per ora no. Io tutti i giorni ci penso. Ma è impossibile che vinciamo, quindi io non me la vivo proprio così, guarda, con una sciallezza senza precedenti da questo punto di vista. che abbiamo già dato. No, non è vero, non siamo più favoriti, non siamo più favoriti. Ora vinceranno con la pesce di Martino, rega, io lo so, è proprio palese, palesissimo. In realtà i favoriti sono loro, quindi non siamo più. Che l'ho fatto truccato. È palese, rega. Sì, madonna, mi sono... Sì, sì, sì. Ed è stata una giornata abbastanza interminabile. È stata una splendida domenica di sole milanese con un panico addosso. Però sì, l'abbiamo pensato. Tutto il tempo, praticamente. Allora, facciamo riti proprio con Sant'Enova. Riti veri e propri no, però diciamo delle cose un po' esoteriche, amuleti, queste cose qua. Beh, l'ho pensato forse più io di Franci, però sì. No, beh, l'ho pensato anche io molto. Diciamo che ci siamo detti, anche perché c'è da dire, quando abbiamo proposto il nostro brano per essere presi, diciamo, al festival, la data del festival era a febbraio. Poi è stata spostata e quindi è iniziato, diciamo, un pensiero a riguardo e ovviamente non dovrebbe succedere. Non dovrebbe succedere. Se succede, ci siamo detti, diciamo, cosa fare, ecco. Beh, allora, il 5 marzo esce il nuovo capitolo di Fit che si chiama Fit fuori dagli spazi, dove c'è chiaramente Federico con Chiamami per nome. E poi è partito il mio podcast che si chiama Maschiacci, che avrà una serie di puntate in questi mesi. Una, tra l'altro, esce proprio giovedì di questa settimana ed è uscita già quella con Matilda De Angelis venerdì questo scorso. Niente, fare musica a manetta e speriamo si torni a fare concerti perché se no io mordo qualcuno. Anch'io lavorare in ballo, ho tantissime cose in ballo, stare con la mia famiglia, fare musica e tante altre cose che però non posso ancora comunicare, però tante cose. Grazie.